Cari rettori, spin-off di The Barbaria King, questo Valeria di Leviathan Labs, è un'opera ispirato a Robert Erwin Howard, appunto a Conan il Barbaro. La sceneggiatura di Marco Cei, i disegni ai colori di Ramiro Borallo, parlano appunto di questa Valeria che prima era a fianco del Cimbero. Sono passati lunghi anni da quando Valeria era a fianco del Cimbero, adesso è una piratessa esperta, abituata a cavarsela e a lottare al pari degli uomini. Ma quanto sta per affrontare la metterà a dura prova. E un'antica tomba nel freddo nord la estraderà di nuovo sul sentiero che porta al re Barbaro, ammesso che sopravviva. Come al solito un volume brossurato, poco più grande di un bonellide, tutto a colori con pagine decisamente spesse e interessanti. Il costo è di 15 euro.